Un saluto a tutti da Alessandro Pompini, investire.biz. Mi occupo del servizio premio Romano Forecast Report. Lo trovate all'interno dei servizi premio Romano Forecast Report. È un report che costa di circa 12 lo studio e previsioni di 12 strumenti, tra cui cross-valutari, indici e materie prime. In questa pagina trovate anche un video esplicativo che mostra appunto come è strutturato ogni report. La novità per quanto riguarda il 2017 è che ogni previsione avrà appunto grafici e in più ogni previsione avrà un link dove cliccando appunto partirà un video che sarà esplicativo, che spiegherà appunto il grafico che state guardando, che state appunto interpretando. Il prossimo report uscirà entro i primi 10 giorni di gennaio. Comunque sarete avvisati tempestivamente sul sito investito.biz. Allora, andiamo ad aggiornare la previsione per quanto riguarda l'IBEX 35 di cui abbiamo appunto analizzato qualche giorno fa. Quindi noi ci aspettiamo appunto uno storno dei prezzi. Prendiamo atto che gli indici in questo periodo appunto stanno dimostrando una notevole forza. ribadiamo che noi tutta questa forza, questo entusiasmo, questo ottimismo non lo vediamo, soprattutto anche per quanto riguarda appunto gli indici europei in particolar modo è quello italiano. L'Italy 40 sta facendo delle performance veramente incredibili. Sappiamo che l'Italy 40 appunto è un indice dove la maggior parte appunto del peso ce l'hanno appunto titoli del settore bancario. Sicuramente il settore bancario in Italia non gode di ottima salute, tutt'altro. All'ordine del giorno appunto notizie su salvataggi di banche, l'ultima appunto MPS. Quindi vengono continuamente, come abbiamo appunto paragonato, è come un continuo tossico dipendente al quale appunto viene dato un metadone, vengono date appunto delle sostanze per tenerlo su, per tenerlo in vita. Quindi vediamo appunto, prendiamo atto che c'è appunto questo entusiasmo e noi insomma cerchiamo appunto di analizzare anche sotto quest'ottica. Ci piace noi comunque sempre trovare le motivi, razionalizzare e non subire passivamente queste notizie, insomma tutta questa forza. Abbiamo cercato appunto di capire dove proviene tutta questa forza, ma sinceramente non troviamo insomma dei motivi validi per cui appunto possa continuare nel corso del 2017, nel 2017 possa continuare a questi livelli. Comunque aggiorniamo la previsione dell'Ibex 35, ci aspettavamo intorno al 18-20 di dicembre uno storno dei prezzi, abbastanza insomma significativo, di circa 6-700 punti. Eccolo qua, questa è appunto la previsione del 5 anni, del 7 e del 10 anni. Insomma aspettavamo un bello storno, cosa che almeno per adesso ancora non c'è stata. Noi continuiamo ad aspettare una correzione dei prezzi, chiaramente non sarà corposa come quella appunto che ci aspettavamo all'inizio, ma una correzione appunto ci sarà. Abbiamo anche altri motivi per credere, adesso li andiamo a vedere velocemente. Quindi ci aspettiamo comunque una correzione per entro la fine dell'anno per poi appunto rimbalzare. Velocemente, faccio vedere velocemente insomma i grafici del 2017. Questo sarà uno degli strumenti che sarà analizzato anche nel corso del prossimo Roma Forecastle Report disponibile da entro il 10 gennaio 2017. Quello che ci aspettiamo è questo qui. Quindi ci aspettiamo per quanto riguarda l'istoria 5 anni, quindi una correzione, il rimbalzo e poi questo movimento qui. Quindi riprendere a forza. Però questo succede soltanto con l'istoria 5 anni. Per quanto riguarda 7 anni, notiamo appunto questa correzione, rimbalzo e poi appunto una bella discesa. Cosa che vediamo anche per quanto riguarda il 10 anni e poi anche il 15 anni. Quindi, a luce appunto di questi, insomma, degli ultimi dati. Quindi ci aspettiamo uno storm. Noi siamo comunque, siamo short da 9408 circa. Continuiamo a tenere lo short e lo aspettiamo appunto entro la fine dell'anno. Comunque aspettiamo questa correzione. Vi faccio vedere pure un altro, lo studio appunto dei cicli per quanto riguarda l'RSI. Notiamo appunto che c'è questa ciclicità. L'abbiamo notato. E qui, insomma, questa ciclicità ci porta appunto a pensare che ci sarà questa discesa. questa ciclicità. Abbiamo visto che è una durata di circa 20 giorni. Eccolo qua, come potete vedere appunto dalle date. Mentre qui appunto la parte appunto bassa di circa un mese. Quindi questa ciclicità di 20 giorni siamo al 4,24. Quindi insomma, ci aspettiamo questa discesa. inoltre vediamo che c'è una, continuiamo ad esserci una divergenza ribassista. Abbastanza evidente nel giornaliero, mentre nell'orario è ancora più evidente. Prima di chiudere, volevo appunto farvi vedere, appunto chiaramente ribadire il fatto che questo è il periodo insomma un po' più difficile per portare avanti gli studi con il forecast. Questo perché? Perché il grafico, come appunto avete visto, appunto costa di due porzioni. Se uno vuole fare un'analisi che ingloba la fine dell'anno, quindi il grafico assolutamente deve essere strutturato appunto in due porzioni. Che purtroppo queste due porzioni sono svincolate l'una dall'altra. E questo che cosa può indurre? Può indurre, ha dei seri problemi per quanto riguarda la seconda parte, per quanto riguarda gli allineamenti dei prezzi. Questo perché? Perché essendo appunto svincolato, quando noi andiamo a modificare la parte antecedente, la fine dell'anno, con il grafico dei prezzi, abbiamo appunto il punto di riferimento col grafico dei prezzi. Nella parte destra, non avendo questo riferimento, non abbiamo nessun altro tipo di riferimento. e poi la scala che trovate appunto nel forecast, è una scala appunto relativa a questo periodo di tempo appunto che si è andata a studiare. Quindi è svincolata al 100% dalla rimanente, da quella appunto che la precede. Poi, un'altra cosa molto importante, quando andate a fare i grafici, a studiare ad esempio dal 1 ottobre al 31 dicembre, occhio perché il 31 dicembre non è mai il 31 dicembre o il 30 dicembre, ma è sempre il venerdì della 51esima settimana che corrisponde grosso modo al 23 di dicembre. Mentre quando andate a fare gli studi dal 1 gennaio in poi, il 1 gennaio non è mai il 1 gennaio, andate a vedere, se voi mettete 1, 2, 3, 4 gennaio è sempre lo stesso punto, quindi invece dal 4 in poi il grafico cambia, quindi il grafico parte dal 4 gennaio. Quindi il gap che voi avete quando andate a fare poi fare appunto un grafico continuo, occhio che quando andate a fare appunto queste congiunzioni e due grafici perché c'è sempre un gap dal 23 al 4, quindi un gap di qualche diversa esenzione appunto non sono tantissime perché questo è il periodo dove insomma con le festività si tratta poco, però insomma c'è qualche giornata appunto di contrattazione mancante. Un'ultima cosa quindi quando poi andate a quindi a unire le due parti di grafico come avevo detto la parte di destra quindi dall'inizio dell'anno in poi è svincolata dalla parte appunto di sinistra quindi come potete chiaramente fare ovviare a tutto ciò. Piccolo trucchetto io faccio un grafico dal 4 gennaio al 23 dicembre in modo tale che la parte appunto qua che studio per esempio dal 4 gennaio al 15 febbraio questa parte qua ho i punti di riferimento rispetto appunto al grafico di sinistra quindi facendo il grafico di tutto l'anno io so che questo picco che corrisponde appunto a questo lo devo grossomodo rapportare a questo del del grafico che non procede che è appunto questo qui e quindi ho dei punti di riferimento come questa parte qua so che la devo grossomodo rapportare più o più a questa parte qui a questo qui oppure questo minimo rapportare appunto a grossomodo a questo punto qua del grafico del grafico della mercoledì della 36esima settimana quindi in questo modo io ho i miei punti di riferimento anche per quanto riguarda appunto i prezzi i livelli di prezzo mentre chiaramente per quanto riguarda questo per quanto riguarda i livelli di prezzo mentre per quanto riguarda il tempo quello invece non cambia quindi quello rimane sempre sappiamo sempre che il giorno tot della seconda settimana ci sarà questa inversione il 7 anni prevede questo e questo punto sarà sempre dipendentemente appunto da dove poniamo appunto questa porzione di grafico quindi ecco volevo ribadire ecco questo questo aspetto e niente quindi io vi do appuntamento entro il 10 gennaio per quanto riguarda il prossimo numero Roma Forecastle Report sarà un pdf interattivo con tantissimi video e niente colgo l'occasione per rinnovare gli auguri di un felice sereno 2017 per tutti e niente e vi aspetto per il nuovo Roma Forecastle Report entro il 10 gennaio 2017 un saluto da Alessandro Pompili grazie a tutti